E' partito già da qualche giorno a Sciacca, ma è destinato ad estendersi nei comuni dell'Interland, il servizio sospeso, iniziativa di solidarietà che interessa alcuni acconciatori, tra questi Cristina Napoli, titolare di una parrucchieria. Il servizio sospeso è un'iniziativa che permette di dare la possibilità a chi in questo momento non si può permettere di farsi bella. E' un'iniziativa che ci ha proposto Filippo Guzzetta, che è un nostro agente di una nuota azienda. Lui l'ha studiata, ce l'ha proposta e noi attività abbiamo accettato l'iniziativa e portata in negozio. Abbiamo capito che ci sono delle realtà un pochino particolari e diciamo che la cliente insieme a noi ha sposato questo progetto e ha dato l'opportunità a chi in questo momento non si può permettere un servizio in negozio. Praticamente vengono date dei contributi che noi metteremo da parte e al momento in cui troveremo la persona, che basta girare dietro l'angolo che è la realtà, è quello che vediamo tutti i giorni, e la persona che aderisce può conoscere qualcuno o anche noi stessi possiamo incontrare la persona che realmente ne ha di bisogno, portarla in negozio e fare usufruire del servizio che noi siamo disposti a dare. Almeno da parte mia io spero di continuare questo servizio anche in futuro per dare l'opportunità alle persone meno, tra virgolette, meno fortunate di noi. Nasce dunque dalla volontà di alcuni artigiani l'iniziativa di offrire a chi è più sfortunato la possibilità di non rinunciare alla cura di sé, attività che a loro volta sono state colpite dal periodo di chiusura imposto dal lockdown e che non negano il difficile momento che interessa anche il loro settore. La gente magari ha paura, la gente non ha i soldi, però bisogna andare avanti, cerchiamo noi di agevolare anche la cliente a venire in salone, insomma ci diamo un aiuto a vicenda. E pare che il servizio sospeso partito a Sciacca abbia già ricevuto il plauso di tanti colleghi che pensano di portare l'iniziativa nelle loro comunità. Oltre a me c'è Giovanna Ciaccio, Gina Marotta, Daniela Vitabile, Francesca Bongiovi, Antonina Ardagna e Rosa Guardino. Poi ci sono altri colleghi dei Paesi Limitrofi come Giovanni Balsamo, Angela Palumbo. E la cosa che ci onora tantissimo è che i colleghi del Nord hanno visto la nostra locandina, la nostra iniziativa e l'hanno condivisa. Questo a noi ci fa grande onore perché è un progetto che stiamo portando noi e loro l'hanno condiviso con noi. E' un progetto che stiamo portando noi.